Benvenuti ragazzi con questo nuovo video della caverna della balestra parte 1 noi scendiamo qui raga raga andate tutti a seguire Ottomano CTV che lui raga fa tantissimi video di grotte appunto io mi sto ispirando da lui seguitelo tutti e appunto noi andiamo qui e qui c'è appunto la stanza della balestra ecco qui, eccoci la, qua ci sono delle foto, foto, foto ossa c'è un po' di tutto questo qua era un covo di pirati in cui loro nascondevano appunto questa balestra questa che si ritroverà qui e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video di The Forest bella